Il Moodlehof di Val Casiers è un'azienda zootecnica con agriturismo e contemporaneamente un buon esempio di impiego innovativo ed intelligente di più fonti di energia rinnovabile. Peter Valder si interessa al tema energia già da 30 anni. Oggi il Moodlehof si rifornisce autonomamente di calore ed energia elettrica. Tutto cominciò con la costruzione di una piccola centrale idroelettrica per utilizzare la propria acqua, attinta dal vicino Marerberg. Dopo la costruzione della centrale idroelettrica ho cominciato ad interessarmi al tema calore. A quel tempo l'argomento biogas era molto in voga e me ne sono occupato anche io. Nel 1991 costruimmo un impianto a biogas. Il biogas funziona ancora egregiamente. Nel 2008 abbiamo rinnovato la centrale idroelettrica ed abbiamo deciso di utilizzare anche il calore ambientale per mezzo di una pompa di calore che funziona molto bene. La utilizziamo solo d'inverno quando il biogas non basta. E dopo la centrale idroelettrica il biogas e il calore ambientale. Ora il Moodlehof ha scoperto anche l'elettromobilità. La famiglia Walder possiede una macchina elettrica per l'uso quotidiano. Tutto si deve a mio fratello che si è sempre interessato di elettrotecnica, energia elettrica. Lui ha studiato elettrotecnica e ora è anche un ricercatore nel campo. Ha fatto capire a mio padre il grande potenziale dell'elettromobilità. Cosa molto sensata per la nostra realtà, vista la centrale idroelettrica e l'impianto a biogas. Produciamo noi l'elettricità che ci serve per muoverci. Per noi quindi la macchina elettrica è la scelta ideale. Quella della famiglia Walder è la macchina elettrica con la maggiore autonomia presente sul mercato. Con una piena carica raggiunge circa 360 chilometri. Il caricamento è semplicissimo. Si attacca la spina e si carica da sola. Se si usa una comune presa o il cosiddetto supercharger con il quale si ricarica in mezz'ora non fa differenza. Perché più è grande la fonte di elettricità e più è veloce il tutto. Nel campo dell'elettromobilità sta succedendo tutto molto velocemente. Soprattutto nel campo dell'agricoltura se ne possono sfruttare benissimo i vantaggi. produrre autonomamente l'energia elettrica ed aumentare così il grado di autarchia. Si possono utilizzare soprattutto sistemi ecocompatibili quando si lavora con un prodotto agricolo che poi va sul mercato. Si può sfruttare anche come punto di forza nel marketing e nella presentazione della propria azienda. Così il concetto di rispetto dell'ambiente non sarà solo legato al prodotto ma sarà veramente applicato e vissuto dall'azienda. La famiglia Walder è convinta che l'elettromobilità sia in espansione e che a breve si potranno vedere i primi ospiti dell'agriturismo rifornire le loro macchine elettriche presso la propria stazione di ricarica. In agricoltura macchine ed attrezzi elettrici sono sempre più ricercati. Dai sollevatori fino alle macchine di trasporto di cassoni il mercato offre molto. Anche in frutticoltura e viticoltura si utilizzano macchine ed attrezzi elettrici. Da alcuni anni Bernard Knoll ha deciso di lavorare con una macchina per il trasporto di cassoni per il raccolto, un sollevatore e una forbice per la potatura. Tutti elettrici. I vantaggi dell'impiego di macchinari e attrezzi elettrici nell'agricoltura sono evidenti. Il sollevatore me lo sono procurato per i meleti, per il lavoro con le reti antigrandine, ma anche per il raccolto, la potatura e altri lavori. L'ho comprato ad alimentazione elettrica perché è silenzioso e non produce il gas di scarico. La forbice elettrica me la sono comprata perché ho cominciato ad avere problemi con una mano, una tendinite. Ora con la forbice elettrica la potatura è molto più semplice. Macchinari ed attrezzi alimentati ad energia elettrica sono sempre più richiesti in agricoltura, ma hanno anche degli svantaggi. Hanno bisogno di continue ricariche, inoltre sono ancora relativamente costosi, ma la tecnica di trazione elettrica è in continua evoluzione e forse tra non molto avremo già i primi trattori elettrici in Alto Adige. Per ora i macchinari che possiedo mi bastano. Per quanto riguarda il trattore elettrico penso che ci sia un continuo sviluppo in questo campo. un trattore di questo tipo non è previsto nel mio prossimo futuro, però chissà, a lungo termine potrebbe sicuramente essere una soluzione vincente. Assieme all'impiego di macchinari ed attrezzi elettrici l'utilizzo di sistemi di stoccaggio in futuro potrà portare ad un aumento dell'autoconsumo dell'energia prodotta. Le batterie possono essere un grande aiuto per aumentare l'autoconsumo dell'energia prodotta. Lo sviluppo più evidente consiste nel fatto che questi sistemi di stoccaggio continuano a diminuire di prezzo. Parliamo del 20% anno. Possiamo quindi immaginare un'espansione repentina e su larga scala di questi sistemi. Nuovi modelli d'impresa interessanti anche per chi gestisce un impianto fotovoltaico sono i nuovi sistemi efficienti di utenza detti SEU. Un produttore privato di energia elettrica può rivendere ad un consumatore privato la corrente prodotta a condizioni particolari concordate precedentemente. In questo caso molti degli oneri presenti nel campo della fornitura di energia elettrica e che costituiscono il costo maggiore non sono dovuti. L'unica condizione è che produttore e consumatore siano collegati con un cavo apposito una linea dedicata. A questo punto saranno produttore e consumatore a pattuire il prezzo dell'energia i tempi di fornitura la sicurezza dell'approvvigionamento. Si tratta quindi di una nuova possibilità che fino ad oggi non esisteva in Italia. Nella produzione e utilizzo intelligente di energia elettrica emergono nuove prospettive per il futuro anche per aree rurali ed in agricoltura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.